Siamo finalmente in un contesto in cui l'economia è tornata a crescere, ce lo ricorda stamattina di nuovo l'Istat, e un contesto in cui questa crescita non è una crescita senza lavoro. Per chi ha responsabilità politica e responsabilità di governo, responsabilità nella nostra comunità, questo è un indicatore fondamentale da tenere d'occhio. Sì, c'è il PIL, c'è il miglioramento dei conti, l'abbassamento del deficit, ma, grande punto interrogativo nel contesto globale attuale, il ritorno della crescita porta ad aumentare i posti di lavoro, a ridurre la disoccupazione. Questa sarà la sfida dei prossimi anni e trovo molto importante che oggi l'Istat abbia certificato che la crescita italiana di questo periodo corrisponde anche a un calo del nostro tasso di disoccupazione.